Raul Bova, dopo Hercules e poi Zio Fester, ormai sei un doppiatore di professione. Beh c'è anche Bolt. C'è anche Bolt il protagonista. Sì sì, per me è un grandissimo piacere, è un grandissimo onore farlo per la Disney. Io ho iniziato anche con il mio primo film in America, con la Disney, che si chiama Under Toscan Sun con Diane Lane. Però il cartone animato è qualcosa che spero che rimarrà per molto tempo, che lo possono guardare tanti bambini e divertirsi e sorridere. Adesso e in futuro. Senti diciamoci la verità, Chip che è il tuo praticamente personaggio, rosica un pochino che Chop è in CGI. No, non lo accetta. Nel senso che comunque lui dice ma perché devi trovare questi escamotage per... tu che vuoi sempre arrivare al successo, no? Non serve cambiare sempre, bisogna rimanere se stessi. Lui è un po' più conservatore. Che lui è in 3D, la rende, dice perché, non serve. Però poi i dissidi passano e ridiventano amici, ridiventano agenti speciali.